Era la notte tra il 2 e il 3 giugno del 2005. Un'ala della biblioteca provinciale de Meis di Chieti, vicino ai templi romani, crollò durante i lavori di ristrutturazione e l'ampliamento. Per fortuna era notte, solo per questo non vi furono vittime, mentre una parte del patrimonio liberario andò irrimediabilmente persa. L'edificio costruito negli anni 30 del secolo scorso fu dichiarato del tutto inagibile. Dopo 18 anni, nel 2024, la città di Chieti avrà la sua nuova biblioteca provinciale, nell'ex caserma buciante alla villa comunale. Sono iniziati infatti i lavori. Ieri l'incontro decisivo in prefettura e il consigliere provinciale di Chieti, Filippo Di Giovanni, che ha seguito da tempo la vicenda, non può che dirsi soddisfatto. E di questi giorni la consegna all'impresa dell'otto biblioteca de Meis, che vedrà alla luce, in questa struttura, la struttura dell'ex caserma buciante, i nuovi locali della biblioteca. Un'opera importante, attesissima, che fa parte di un progetto piano di rilancio del centro storico, di cui questa realtà diventerà un luogo fondamentale. Per un importo di circa 4 milioni di euro, ma questa sarà una vera e propria cittadella della cultura? Perché? Sì, una vera e propria cittadella della cultura, perché nel plesso dell'ex ospedale militare si inserisce anche l'archivio di Stato, una parte per l'università e la biblioteca. Questo, grazie a un lavoro e a una sinergia fra istituzioni, e non posso oggi esimermi dai ringraziamenti a tutti coloro che hanno dato un apporto fondamentale. Al prefetto Forgione, che è andato via, al nuovo prefetto Mario della Cioppa, che dal suo insediamento ha subito deciso di prendere in mano il tavolo di coordinamento, ma anche a tutti coloro, in primis il Comitato Cittadino, per il rilancio della città di Chieti, hanno dato un apporto fondamentale. Senza dimenticare il commissario Giovanni Legnini. Nel 2015 la firma dell'accordo di programma, ieri intanto in prefettura, l'incontro tra le istituzioni, comune, provincia, regione, al momento la biblioteca è in affitto al Teat e Center, almeno fino al 2024, quando rinascerà nuova vita e sarà fruibile da tutti i cittadini.